Sì, sì, questa credo sia un po' la cosa più importante perché i nuovi sono arrivati quasi tutti negli ultimi giorni di mercato, avremo questa possibilità anche se Pazzini ora è in nazionale, però avremo qua De Jong, avremo qua Niang, insomma Boyan sono qui e avremo l'opportunità di lavorare con loro 12-13 giorni prima della prossima partita e questo riteniamo fosse importante. Insomma, De Jong si è trovato catapultato in campo, praticamente l'abbiamo visto in stazione per la prima volta e per l'infortunio di Montolito l'ho ritrovato in campo, però devo dire che anche in un ruolo non suo ha dato il suo contributo e è stato importante. De Jong e Boyan sono giocatori che hanno già esperienze importanti, insomma, sia uno che l'altro e Niang è un ragazzo e abbiamo tolto dentro perché negli ultimi minuti ci sembrava giusto fare entrare una casa, non fare entrare per giocare qualche minuto uno dei senatori così e comunque io credo che ci daranno un aiuto importante perché sono giocatori importanti, sono bravi e adesso staranno noi a farli integrare il più in fretta possibile. Sì, l'importante è che non siano poi così lunghe perché credo che un po' tutti succederanno perché un infortunio come quello di Boatenga non si può prevedere, certo c'è stato qualche problema muscolare ma c'è qualche giocatore che ne soffre di più, Montolito non sappiamo la sua storia, insomma è la prima volta che ci succede qui da noi e staremo più attenti. Sì, ma a giocare a calcio ci si fa male purtroppo, speriamo che sia successo tutto in questo mese e che poi ci lascia stare la sfortuna per un po'. Vediamo, insomma io credo che dobbiamo avere qualche alternativa al nostro modulo classico che è il 4-3-1-2 e poi delle volte bastano le sfumature, magari si possono tenere i giocatori nei stessi ruoli ma poi sono le sfumature che fanno la differenza e domenica è un momento sabato. Bologna quando c'era magari da cercare di mettere al sicuro il risultato abbiamo avuto la possibilità di allargare Boatenga a destra così ci siamo messi anche un 4-4-2 e insomma per congelare un po' il risultato la cosa è venuta bene ma dobbiamo avere varie possibilità, credo che avendo così tanti giocatori possiamo farlo. Grazie.